Il caso della ragazza scomparsa alla potestà genitoriale. E allora? Marcello, sono letteralmente scomparsi nel nulla. C'è stato un incidente d'auto due settimane fa. La ragazza era nella macchina, lui era al volante. L'esame tossicologico ha dimostrato che aveva assunto cocaina. Gli hanno sequestrato la patente, ma non hanno potuto sequestrare la macchina perché è intestata allo studio legale. Lei per fortuna non si è fatta niente, ma lui avrebbe dovuto incontrare un assistente sociale e non l'ha fatto. E la madre? La madre è morta due anni fa. Già, già. Marcello, secondo me lei l'avantonio è in pericolo e dobbiamo pure fare in fretta. Io continuo ad avere forti dubbi. Ma che ti devo dire? Vai avanti ancora per un po'. Bene. Grazie. Ma Chiara non te la posso dare, eh? Sta facendo un lavoro per me. Però c'è un giovane ispettore che è arrivato da poco, sta di là e questa è la sua scheda. Non vuoi leggere? Perché ho scelta? No. E allora che me ne faccio? Grazie. 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 Grazie.